Ballottaggio serrato tra Bernardeschi e Remsi per l'uomo alle spalle del duo argentino. Douglas Costa sarà inserito a gara in corsa come cambia l'attacco juventino senza Cristiano Ronaldo? A livello statistico, qualcosa i bianconeri hanno già perso nelle due precedenti trasferte di Brescia e Lecce. Una sofferta vittoria in primonta al Rigamonti e un 1-1 al Via del Mare, per la banda Sarri senza il portoghese. Effetto Douglas, a livello di formazione, toccherà a Dybala e Iguain a sostenere il peso dell'attacco. Nessun dubbio al riguardo, visto che l'unica alternativa, Mandzukic, è congelata da inizio stagione. Il ballottaggio semmai è sulla tre quarti. In linea teorica Sarri potrebbe rispolverare un tridente con Douglas Costa e Bernardeschi, ma il centrocampo a rumbo è quello che gli ha dato più garanzie proprio dall'infortunio del brasiliano, a Firenze. Ramsey in rampa, vero che il tecnico vede Douglas anche tra le linee, ma al momento il ballottaggio è tra l'ex Viola e Ramsey. Bernardeschi è quello che ha giocato con più continuità, ma, il Galles sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi muscolari che gli impedivano di forzare. La doppietta all'Ungheria che martedì scorso ha fatto volare il Galles a 2020 euro è il miglior biglietto da visita per rivedere l'ex Arsenal alle spalle delle due punte. Con Douglas Costa pronto ad entrare a gara in corsa per far saltare il banco con i suoi strapi e le sue invenzioni.Copyright.Riproduzione riservata.Let's block out. Grazie a tutti.